Vediamo come creare audio guide e tour virtuali con l'applicazione Easy Travel. Ci basterà digitare Easy Travel sulla barra di ricerca di Google e il primo risultato è proprio quello relativo all'applicazione in questione. Si tratta di un'applicazione italiana, questa è la home page. Come prima cosa dobbiamo cliccare qua su crea, clicchiamo quindi qua per privati e quindi su comincia ora. Ci viene chiesto di crearci un account, io ho già un mio account e quindi proseguo. Una volta effettuato l'accesso questa sarà la nostra pagina di lavoro. Per creare il nostro tour virtuale ci basterà cliccare qua in alto a destra sul pulsante crea. Ci verrà chiesto se vogliamo creare un museo, un tour o un'attrazione turistica. In questo caso noi andiamo a creare un tour. Diamo quindi un nome al nostro tour. Questo sarà un tour di prova dedicato alla Toscana. Possiamo scegliere la modalità del tour, tour all'aperto oppure gioco. La modalità gioco però è una modalità più avanzata che vedremo successivamente. Quindi clicco su tour all'aperto. Posso scegliere anche la categoria se a piedi, in bicicletta in autobus. Noi lasciamo la categoria di default che è a piedi. Possiamo scegliere anche la lingua principale. Come vedremo possiamo aggiungere più lingue al nostro tour. Clicco quindi su crea. Questa sarà la pagina di presentazione del mio tour. Qua devo inserire le informazioni necessarie per avere una panoramica di quello che i visitatori poi andranno a vedere nelle varie tappe del tour. C'è già il titolo. Posso aggiungere qua una descrizione. In questo caso ho incollato una descrizione che avevo già preparato. Posso aggiungere una riga di chiusura. Se clicco qua su aggiungi riga di chiusura comparirà una sezione qua in fondo per la riga di chiusura. Posso aggiungere anche una nota dell'editore. Cliccando qua su aggiungi note dell'editore. Anche qui possiamo inserire facilmente i nostri testi ed eventualmente allegare dei link. Come vedete possiamo anche aggiungere un video. Cliccando qua su aggiungi video mi sarà permesso di aggiungere sia un video direttamente da youtube inserendo il link oppure caricare un video dal mio computer. Un'altra opzione molto interessante sta nella possibilità di aggiungere dei quiz ai nostri tour. Se clicco qua su aggiungi quiz ho infatti la possibilità di inserire un quiz con domanda e risposta multipla oppure un quiz con domanda a risposta breve. Se clicco sull'opzione desiderata comparirà poi in basso la sezione dedicata al quiz dove posso inserire la domanda, le risposte dove dovrò indicare ovviamente l'opzione corretta e un'altra possibilità molto interessante è quella di poter aggiungere un feedback, un commento alla risposta. Bene una volta che abbiamo inserito i video, i quiz e le informazioni testuali un'altra opzione molto interessante sta nella possibilità di inserire anche degli audio. Noi possiamo sia caricare dei file audio precedentemente registrati cliccando qua dove c'è scritto scegli file oppure possiamo trasformare il testo che abbiamo inserito in sintesi vocale. Prima di fare questo però dobbiamo ricordarci di salvare quanto abbiamo già inserito. Vado quindi qui in basso a cliccare su salva e una volta che ho salvato come vedete mi compare qui la possibilità di trasformare il testo in voce. Quindi clicco qua da testo a voce, posso scegliere tra voci maschili e voci femminili, posso trasformare in sintesi vocale sia la descrizione che ho inserito sia eventualmente la nota dell'editor che in questo caso però non abbiamo inserito. Clicco quindi su registrazione e viene generata in automatico la sintesi vocale del testo inserito. Un'altra opzione molto interessante sta nella possibilità di poter aggiungere più lingue al nostro tour. Se infatti clicco qua in alto a sinistra su aggiungi lingua, posso dare un nome alla seconda opzione del mio tour che sarà ovviamente nella lingua prescelta. In questo caso in inglese ma se andiamo a cliccare qua si aprirà un menu a tendina e come vedete abbiamo a disposizione praticamente quasi tutte le lingue del mondo. Il nome sarà quindi in inglese. una volta inserito il nome devo cliccare su crea per creare la pagina nella seconda lingua e inserire manualmente i miei dati, posso anche semplicemente tradurre quanto già scritto nella pagina in italiano. Adesso torniamo però nella pagina principale, quella in italiano. Se andiamo a cliccare qua in alto su proprietà compariranno le informazioni che abbiamo già inserito e se vado a cliccare qua su immagini posso inserire un'immagine di copertina per il mio tour. Clicco quindi su carica immagine e vado a scegliere un'immagine della Toscana. Come vedete qua in basso posso anche inserire una didascalia. Se vado qui a cliccare sul link ho la possibilità di aggiungere dei link al mio tour, posso aggiungere eventualmente degli sponsor e posso generare un codice QR che poi può essere stampato e quindi permettere facilmente di accedere il tour con l'applicazione mobile. Posso poi eventualmente cancellare il mio tour. Bene, una volta che ho inserito le informazioni necessarie sulla pagina di presentazione torno alla pagina principale del tour cliccando qua a sinistra su questa freccetta e qui dove c'è scritto tour. Vengo riportato alla pagina del mio tour dove devo adesso inserire le varie tappe. Allora, per inserire le varie tappe mi basterà andare a cercarle qua sulla barra di ricerca. Io qua posso scegliere se utilizzare Google, se utilizzare il gestore dei contenuti di Easy Travel o inserire direttamente le coordinate. La modalità più semplice è cerca con Google. Se digito per esempio Firenze, clicco quindi sul primo risultato e vengo rimandato direttamente a Firenze. Adesso posso facilmente aggiungere la prima tappa al mio tour. Cliccherò qua su aggiungi al tour, darò un nome che sarà in questo caso Firenze e clicco quindi su salva. Bene, ora posso modificare la tappa inserendo le mie informazioni. Se vado a cliccare qua su questa matitina, infatti, ho la possibilità come prima di aggiungere di nuovo una descrizione, inserire un quiz e aggiungere eventualmente anche una nota dell'editore. Una volta che ho inserito le mie informazioni, anche qui ho la possibilità di andare a generare un codice QR, se clicco su codice QR e anche qui ovviamente come abbiamo visto prima la possibilità di inserire delle immagini. Cliccando qua in alto su immagini vado poi a caricare un'immagine di Firenze. Se torno poi alla pagina principale della storia cliccando qua su storie, anche qui come vedete ho la possibilità di aggiungere di nuovo la lingua. Clicco su aggiungi lingua e do il nome alla mia tappa che in questo caso sarà Florence. Clicco quindi su crea e anche in questo caso vado ad aggiungere di nuovo le mie informazioni in inglese. Una volta che abbiamo inserito tutte le informazioni necessarie per le nostre tappe, torniamo alla pagina principale del tour. Come vedete adesso la prima tappa compare qui a sinistra. Mi basterà cliccarci sopra per continuare a modificarla e inserire eventualmente altre informazioni, ma posso inserire all'interno del mio tour tutte le tappe che voglio. Se digito per esempio qua sulla barra di ricerca Pisa, verrò rimandato a Pisa e potrò aggiungere la nuova tappa al mio tour. Questo era solo un tour di esempio, come abbiamo visto però possiamo inserire tantissimi contenuti all'interno del nostro tour e l'opzione molto interessante sta nella possibilità di inserire anche una seconda lingua e trasformare i nostri testi in sintesi vocale, oltre che aggiungere direttamente i nostri audio. Per quanto riguarda la condivisione dobbiamo prima di tutto decidere quali sono le impostazioni di accesso. Andiamo quindi a cliccare qua in alto a sinistra, si aprirà quindi un menu a tendina, possiamo decidere se renderla pubblica e in questo caso basterà andare a leggere il QR code con il nostro smartphone per accedere al tour virtuale, oppure possiamo decidere se permettere l'accesso solo con un codice privato che è l'opzione che io vi consiglio di utilizzare soprattutto all'inizio perché i primi tour saranno dei tour di prova. Cliccando qua su modifica possiamo facilmente modificare il nostro codice. Una volta che abbiamo creato il nostro codice andiamo a cliccare qua in basso su aggiorna. Torniamo quindi alla pagina principale del nostro tour. A questo punto non ci resta che condividerlo su Easy Travel. Dobbiamo quindi cliccare qua in alto a destra dove c'è questa icona del desktop e questa è la pagina del nostro tour. Come vedete sono presenti le due lingue che abbiamo inserito. Qua l'opzione per condividere, qua è presente il nostro tour. Importante per chi vuole accedere da smartphone dobbiamo ricordarci di dargli il codice di accesso che abbiamo creato. Una volta effettuato poi l'accesso all'applicazione sarà necessario andare su impostazioni dove è presente un'apposita sezione in cui verrà chiesto di inserire il codice dato. Una volta inserito quel codice ritroveremo il tour virtuale nella sezione esplora dell'applicazione smartphone.